eccoci qua di nuovo al nostro corso sugli script bash e siamo alla lezione numero 12 cosa trattiamo la richiesta di input diciamo che con la lezione precedente abbiamo svolto veramente il grosso del corso i mattoni più importanti sia di logica che di codice per comporre un nostro script bash sono stati spiegati e sviscerati fino alla lezione 11 a partire da questa lezione diciamo che sono delle cose presento delle cose in più diciamo che possono aggiungere comfort di utilizzo lo scritto ma non sono assolutamente assolutamente proprio necessarie e indispensabili quindi c'è un po un confine fra la lezione precedente 11 e dalla 12 fino alla fine però ciò non esclude che sono interessanti anche queste lezioni successive perché appunto il tutto va a comporre un quadro completo appunto con tutti dei mattoncini anche per rendere decisamente efficace e confortevoli l'utilizzo del nostro script quindi vi prego appunto di continuare a seguire questo corso perché non è finita qui insomma c'è ancora qualche piccola sorpresa ecco finora abbiamo visto ed abbiamo usato come codice script di accompagnamento ad ogni lezione degli script che partono all'inizio vabbè bella scoperta e arrivano alla fine senza nessuna possibilità di intervento da parte nostra o meglio noi possiamo fare enter enter per andare avanti ma non abbiamo nessuna possibilità di interagire col nostro script finora si tratta di script proprio che devono essere pronti già all'inizio con tutti i parametri e tutto quanto gli serve per svolgere il loro compito e poi una volta partiti devono essere in grado di arrivare in fondo senza nessun intervento da parte nostra però non sempre questo è utile anzi probabilmente è più frequente la necessità di poter interagire con il nostro script e poi cammin facendo digli qui fai questo o qui ti do questo parametro piuttosto che quest'altro ed ecco che appunto arriviamo alla descrizione della richiesta di input quindi oggetto di questa lezione come facciamo a inserire e innestare nel nostro script delle richieste di input cammin facendo quindi creando di fatto dell'interattività nel nostro script ecco diciamo che la parola nuova il nuovo elemento che introduciamo con questa lezione è interattività perché è proprio quello che andiamo a creare nel nostro script e lo facciamo con un comando già noi ben noto il nostro amico read che finora è stato usato per introdurre delle pause nello script in modo che fosse più facile dare le nostre spiegazioni in realtà questo comando è qualcosina di più anzi un bel po' di più che non il semplice interruzione dello script per dargli una pausa per inserire una pausa ma con gli opportuni parametri è proprio il comando che ci serve per farci chiedere dallo script cammin facendo dei parametri o delle informazioni in modo che lo script sappia poi come proseguire quindi interattività con il comando read il comando read appunto qui lo dico ma ormai è un pezzo che lo sappiamo perché le lezioni sono susseguite non richiede per forza dei parametri ma basta inserirlo e dargli un enter per far proseguire lo script e può introdurre una pausa nello script questo ormai lo sappiamo è già consolidato ecco questo è quanto ho appena spiegato che dunque finora i nostri script dovevano avere tutte le impostazioni corrette per essere eseguiti da cima a fondo senza che noi potessimo più influire sul suo esito mentre ora introduciamo appunto l'interattività cioè noi cammin facendo possiamo influire sul percorso che il codice dello script eseguirà e quindi ottenendo anche risultati diversi a seconda di cosa gli diciamo di fare di cosa gli introduciamo come parametri e quindi ovviamente magari per me è ovvio comunque lo dico ugualmente è ovvio che ad ogni esecuzione possiamo fornire informazioni diverse al nostro script il quale grazie ai mattoncini di codice che abbiamo imparato nelle lezioni precedenti può reagire in modo diverso a seconda dell'informazione che gli diamo ecco la tra virgolette intelligenza che noi abbiamo imparato a introdurre con i comandi tipo if if then else e quindi fai una cosa altrimenti un'altra o altri tipi di comandi possiamo appunto unendo questo con dei parametri che noi decidiamo di inserire diversi da una volta con l'altra possiamo influire sul comportamento del nostro codice sulla risposta che ci darà e quindi andiamo a vedere come si usa questo comando read al di là della pausa nello script che comunque per completezza di informazioni ripeto qui quindi read più il semplice enter vuol dire una pausa nello script vediamo la prima forma read variabile 1, variabile 2, variabile xxnn da uno a più valori con un solo comando quindi read accetta separati da spazio diversi parametri uno dopo l'altro che poi nello script possiamo prendere in carico nel nostro script bash e gestire e utilizzare eccetera eccetera vediamo un po' quindi con il primo esempio questa prima forma di comando read dunque lezione numero 12 enter allora un bel clear e poi allora messaggio ovviamente l'interattività per uno script impone anche che l'utente venga guidato insomma non possiamo lasciare il nostro terminale il nostro schermo vuoto e come facciamo a sapere cosa fare allora è buona regola cosa buona e giusta dare un messaggio prima in questo caso è mettere due numeri interi mi vengono chiesti due numeri interi quindi secondo questa sintassi devo mettere due valori separati da uno spazio mettiamo 12 spazio 33 e facciamo enter tra l'altro vedete che a livello pratico nel nostro script ho messo read spazio d1 spazio d2 e quindi i nostri i due valori che ho messo qui 12 finirà in d1 quindi posizionale posizione 1 prima posizione 12 finirà nella prima variabile nel primo parametro di input diciamo così e il d2 si prenderà a carico il valore 33 quindi faccio enter e cos'è successo allora d1 e d2 sono stati letti dal comando read io li ho inseriti vedete d1 12 che è il primo eco qua poi ecco qui ho ripreso l'esempio della verifica se un numero è pari o dispari quindi questo codice qua è medesimo identico a quello che abbiamo già visto credo nella lezione della ritmetica semplice quindi niente di nuovo ho semplicemente recuperato riutilizzato riciclato quel codice però questa volta non dovendo cambiare il codice ogni volta impostando d1 e d2 manualmente e salvando il codice rifacendo eseguire lo script ma con un'immissione interattiva quindi lo script stesso che mi chiede di inserire i due valori che poi verranno verificati se sono pari o dispari quindi ho messo lo stesso codice un paio di volte per verificare il d1 e il d2 ho messo 12 e 33 quindi mi aspetto che il d1 12 mi dica che è pari in effetti è pari il d2 33 mi dirà che è dispari perfetto vedete abbiamo creato interattività quindi io non devo più modificare il codice originale per ottenere questo risultato ma semplicemente basta rieseguire il codice quindi se io faccio in questo caso ctrl c per interromperlo e lo riprendo posso immettere altri due valori naturalmente e in questo caso con questi due valori mi dice che sono tutte e due dispari eccetera eccetera vedete che la cosiddetta quella che io chiamo tra virgolette intelligenza si sta rivelando perché io a dipendenza dei parametri che do al mio script lui reagisce in modo diverso prima era un valore pari e uno dispari ora sono due dispari quindi lo stesso codice grazie a questa interattività e alla sua intelligenza inserita con il comando if eccetera eccetera mi permette di ottenere risultati diversi a seconda di cosa io gli fornisco interattivamente ecco poi terza forma di comando read che dunque noi siamo arrivati allora immetti i tuoi colori preferiti separati da uno spazio mi viene chiesto che poi questo eco quindi siamo arrivati qua ecco e dopo quell'eco c'è una pausa nello script che c'è il comando read che ferma lo script e con una sintassi particolare quindi parametro meno a e una variabile colori che cosa succede quindi in questa forma non è proprio una variabile ma è una tupla quella che segue il parametro a quindi inserisce i valori forniti dall'utente in una tupla questo può essere molto comodo quindi in questa forma read meno a è il comando e poi il nome della tupla quindi io chiedo di inserire i colori che a me sono preferiti e verranno inseriti in questa tupla colori allora vabbè adesso preferiti o meno metto dei colori a caso voilà ancora uno va quindi non messi uno due tre quattro cinque colori separati da uno spazio quindi il funzionamento è identico alla forma precedente quindi ogni parametro posizionale quindi uno due tre uno due tre quattro cinque separati da uno spazio e poi faccio il mio bel enter e voilà e lui cosa mi dice con le sintassi per gestire le tuple che abbiamo già visto in una lezione precedente il primo eco ci dice quanti colori io ho fornito con questo comando read e mi dice ovviamente 5 giusto sono 5 e poi mi dice anche mi mette a video mi visualizza la mia tupla colori con l'asterisco quindi tutta la tupla colori me la mostra mi dice guarda che in questo momento la tupla colori con indice dal 0 al 4 il contenuto è questo e riprende esattamente quello che io gli ho dato quindi rosso, blu, verde, viola e giallo ecco anche questo inserimento in una tupla può essere molto pratico in uno script nel quale io voglio avere il mio tupla colori quindi nella memoria del pc memorizzato in una variabile con un indice da interrogare può essere comodo avere certi parametri inseriti in questo modo con un solo comando vedete read-a colori esegue questo lavoro molto interessante terza sintassi è costituita dal parametro meno r quindi read-r cosa succede con questo read-r riga testo quindi legge un file di testo esterno quindi un file salvato sul nostro disco riga per riga quindi una riga alla volta un file di testo ed esegue delle operazioni necessarie su questa riga di testo molto interessante anche questa quindi questo esempio ve lo lascio più che volentieri perché sfrutta un while che abbiamo appena visto le lezioni precedenti sfrutta quindi un loop un'interattività leggendo un file di testo esterno perché deve sfruttare un'interattività un blocco inter ricorso iterativo iterazione quindi il while che si ripete lo ripete finché non ha letto tutto questo file di testo esterno quindi abbiamo detto che questo comando read-r legge una riga alla volta quindi se questo file di testo out.txt fosse lungo mille righe questo blocco di ciclo ripetitivo iterativo si ripeterebbe mille volte e lungo dieci righe e si ripete dieci volte ecco questo è il senso quindi come è impostato questo esempio parto con una variabile i uguale a zero che è poi il nostro indice di iterazione che continua a far andare il ciclo while e while read-r testo file testo file è la variabile di lavoro nella quale viene inserito ad ogni ciclo del blocco while una riga del file di testo quindi è la variabile di lavoro nella quale viene memorizzato man mano una riga di testo cosa succede? in questo esempio dunque legge le righe da un file ad una ad una e le visualizza in maiuscolo semplicemente quindi cosa fa? read-r variabile do quindi fai esegui che cosa? incrementa il nostro indice di un'unità quindi appena entra lo mette a uno poi mette a video visualizza video riga letta numero i quindi mi mette l'indice di lettura delle righe di testo del file out.txt e la riga di testo medesima maiuscolizzata ecco anche qui nella lezione della gestione delle stringhe abbiamo visto come si fa a rendere maiuscola una riga di testo una stringa e qui viene sfruttato e poi viene usato il carattere a capo per andare a capo uno sotto l'altro con echo parametro opzione meno e anche questo l'abbiamo già visto per far interpretare questa sequenza di carattere che vuol dire vai a capo da dove viene l'input diciamo l'input il file di testo dove viene indicato in tutto questo while viene indicato indirizzando indirizzandolo con un simbolo minore quindi un po' come una deviazione di output dando il percorso del file intero questa volta il percorso intero vedete che nel mio caso nel mio esempio si trova qui ecco questo se voi guardate questo stesso codice quindi dall'archivio compresso che vi ho consegnato con tutto il materiale del corso vi troverete naturalmente il mio percorso personale qui voi laddove salvate questo script naturalmente dovete adattare dovete adattare questo percorso dove voi salverete il corso bash nel vostro pc che può essere tutt'altra cosa naturalmente la vostra home si chiamerà qualcos'altro magari non lo mettete sotto documenti vedete voi dove mettere comunque questa parte qui davanti dovete adattarla a seconda di dove posizionate voi il materiale di questo corso per contro dovreste già trovarvi un esempio di file out.txt che è già contenuto anche nell'archivio compresso e andiamo a vederlo adesso per capire come funziona lo apro ecco vedete che out.txt in questo momento mi contiene 90 righe addirittura vedete 90 righe di testo è un file di testo non malissimo con 90 righe quindi il nostro while continuerà per 90 volte la sua iterazione perché ci sono 90 righe nel file out.txt quindi riassumendo il percorso e il file da prendere in pasto diciamo per questo comando readr viene indirizzato grazie a questo simbolo minore verso il comando while quindi out.txt viene inserito viene gettato dentro questo while il quale ha al posto di una condizione classica di una variabile o qualcosa di verifica dentro proprio il comando read-r quindi viene il ciclo viene incominciato con l'inizio la prima riga del file di testo e terminerà quando il file di testo è finito quindi alla novantesima riga e poi questo loop read-r terminerà da solo vediamo cosa succede se faccio enter a questo punto faccio enter e vedete che quanta roba dov'è 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 che inizia ok ho fatto enter qui e vedete che incomincia l'eco riga letta numero riga letta numero 1 e mi ritorna in maiuscolo la prima riga che è questa qua che qui in realtà è maiuscola e minuscola vedete che è diventata tutta maiuscola e così via per tutte le righe le 90 righe quindi dalla 1 alla 50 50 60 70 80 90 vedete novantesima riga che wizard 5 e wizard 5 in maiuscolo quindi il compito che fa è semplice semplicemente mette in maiuscolo ogni riga di testo ma quello che è interessante e che potrà essere molto utile anche per chi si crea un suo script bash per un qualsiasi compito che si può prendere in pasto in input da gestire da elaborare un file di testo che può essere già preconfezionato con quello che ci serve in questo caso vabbè è l'elenco dei file della cartella ma può essere qualsiasi cosa un elenco che ne so di file musicali da rinominare eccetera eccetera può essere letto questo file di testo in un ciclo di questo tipo e per ogni riga si può andare a fare un'operazione che si vuole molto interessante e molto potente anche con una sintassi molto semplice guardate un po' cosa si può fare andare a leggersi un file di testo che può essere un giornale di elaborazione di sistema di qualsiasi cosa ecco ultimo tipo di sintassi è questo che sembra un po' più complessa ma read meno s parametro e meno n5 cosa vogliono dire questi due parametri e poi naturalmente il parametro in input il solito che c'è allora meno s sta per non visualizzare caratteri digitati stile una password quando se avete già provato ad inserire una password a terminale vedete che voi scrivete ma il cursore non si muove resta lì quindi non vedete cosa viene digitato l'n con il 5 vuol dire che accetta 5 caratteri e poi prosegue l'elaborazione il comando read quindi si aspetta che vengano digitati 5 caratteri non facciamo tempo a digitare il sesto perché una volta contati 5 caratteri l'esecuzione dello script prosegue da sola quindi il 5 è variabile potremmo mettere 10 possiamo mettere 1 2 a dipendenza di quanti caratteri vogliamo che vengano accettati dal comando read ecco prima di vedere l'ultimo esempio qui devo accennare almeno a quello che viene usato nell'esempio qui perché ci sono delle cose caratteri strani qua ecco il comando read permette anche di intercettare determinati tasti tra virgolette speciali della nostra tastiera quindi non solo le lettere i numeri normali ma anche per esempio il tasto enter quindi potete poi leggere tranquillamente il testo in che senso può essere intercettato o altri tasti come l'f1 fino all'f12 eccetera eccetera mediante una sequenza prefissata che si chiama escape e un'altra sequenza di caratteri che stanno ad indicare quel tal tasto quel tal tipo di tasto quindi dall'f1 fino all'f12 c'è una certa sequenza che li distingue uno dall'altro sempre ammesso che nel nostro script vogliamo per esempio introdurre l'intercettazione dei tasti di funzione che ne so abbiamo un menu si dice premi f1 per premi f2 per premi f3 eccetera eccetera per ecco con questo sistema spiegato qui che adesso non stiamo qui a vedere in dettaglio perché basta che lo leggiate e lo applichiate come qui è possibile grazie appunto sequenze escape più un certo numero di caratteri che distinguono i tasti speciali possiamo appunto intercettare anche quella con l'esempio qui l'ultimo esempio mostro come si intercetta il tasto f12 per esempio quindi fisso per comodità assegniamo ad una variabile la sequenza escape che è questa e qui si basta proprio un copy and colla è questa appunto basta prendere atto che è quella poi sempre per comodità alla variabile f12 assegniamo quindi la sequenza escape più la sua sequenza di caratteri distintiva quindi questo parentesi quadra 24 serpentello lì vuol dire f12 e poi chiedo a chi utilizza questo script gli faccio chiedere premi il tasto f12 e poi inserisco appunto questo read meno s meno n5 ris che è la variabile di ritorno del mio input di quello che farò e se la variabile ris corrisponde alla sequenza escape qua f12 quindi escape più questo se corrisponde vuol dire che ho premuto f12 se no non ho premuto f12 e quindi andiamo avanti e facciamo la prova ecco mi dice premi il tasto f12 quindi se io premo f12 ok hai premuto f12 adesso voglio solo proprio per mostrarvi come funziona quindi qui devo andare avanti nello script eccomi qua di nuovo qua premi il tasto f12 ma se io non lo premo e scrivo p p p o ecco 1 avete visto che il parametro s ha impedito di mostrarvi che io stavo scrivendo pippo non l'avete visto il cursore bianco qui è rimasto fermo mentre io scrivevo pippo quindi questo è l'effetto del parametro s l'n5 si aspetta 5 caratteri prima di proseguire l'esecuzione quindi ho dovuto scrivere pippo che sono 5 caratteri e appena ho premuto la o lo script è andato avanti mi ha detto hai premuto un tasto diverso da f12 ovvio ho scritto pippo e non ho premuto f12 perché ho messo 5 caratteri perché la string che identifica il il tasto f12 è composto da 1 2 3 4 caratteri più l'escape che è un carattere strano che non si vede a video comunque è uno anche se qui vedete più roba scritta in realtà questo contatto 1 più 4 caratteri che fanno 5 quindi premendo f12 in realtà inseriamo nel comando re direttamente 5 caratteri ecco perché ho messo 5 per poter far proseguire lo script automaticamente quindi niente di difficile ma può essere utile anche qui se volete usare i tasti speciali nel vostro script ecco conclusa anche questa ennesima lezione e vi do appuntamento alla prossima per il momento un bel saluto ciao ciao